Siamo al santuario di San Cristoforo a Villa Pinta dove tra poco si terranno le celebrazioni legate alla giornata dell'automobilista organizzata dall'automobile Club e Sondrio in collaborazione con la locale parrocchia. Un appuntamento dalla grande valenza civica con il quale l'ACI intende ricordare a tutti gli automobilisti l'importanza di rispettare le principali norme per una guida esente da pericoli e ringraziare tutti coloro che ogni giorno operano per la sicurezza delle nostre strade. È un momento di meditazione, in certi momenti della vita si capisce che non siamo invincibili e abbiamo bisogno anche di una protezione. Ecco allora che siamo venuti nella chiesa di San Cristoforo, l'unica chiesa in battellina dedicata a San Cristoforo, protettore degli automobilisti. Invochiamo la sua preghiera proprio perché noi possiamo essere vigili, seri, tranquilli sulla strada senza recare danno a noi e agli altri. Oggi però vuole essere anche un momento di ricordo degli incidenti che sono successi e che hanno creato tante vittime sulla strada. Ringraziamo anche tutte le forze che operano sulla strada e che danno aiuto agli automobilisti, a forze dell'ordine che dotate del senso del dovere, dell'altruismo, della fermezza e disponibili in ogni momento sia servizio che fuori servizio a intervenire a favore degli automobilisti. Abbiamo da dover ringraziare sentitamente altre strutture tipo la Croce Rossa, tipo i vigili del fuoco che in ogni giorno dell'anno sono pronti a intervenire rapidamente anche per eventuali conseguenze a incidenti e poter recuperare i mezzi nel modo più corretto. Non ultimo il soccorso stradale che non solamente interviene a patata bollita, cioè incidente fatto, ma è pronta a intervenire anche nei momenti in cui gli automobilisti hanno bisogno, sono fermi sulla strada, causa guai e cercano di intervenire rapidamente per porci aiuto. A inaugurare la manifestazione è stata la messa tenutasi presso il santuario. Al termine della celebrazione si è tenuta la suggestiva cerimonia di benedizione dei veicoli e la tradizionale consegna dei riconoscimenti prevista dall'ACI all'interno della giornata dell'automobilista. Oggi è la giornata dell'automobilista, abbiamo voluto dare un messaggio positivo, nel senso che dopo aver tutto l'anno presentato i dati sulla incidentalità, la guida in stato di brezza e altre iniziative, nella giornata odierna vogliamo premiare. Premiare chi? Premiamo i benemeriti della strada, cioè coloro i quali con il proprio lavoro tutelano gli automobilisti. Abbiamo premiato particolari figure nell'ambito della polizia stradale, della polizia locale, dei carabinieri. Abbiamo premiato il comando dei Vigili del Fuoco che con il loro operato salvano vite umane e tutelano tutti noi. Abbiamo premiato la Croce Rossa mettendo in risalto che tanti di loro sono dei volontari che prestano la propria attività al servizio degli altri. Abbiamo premiato la Guardia di Finanza e abbiamo premiato un soccorso ACI che si è distinto per tantissimi anni in questa attività. Un evento importantissimo ed è utilissimo. Devo ringraziare prima di tutto Don Enrico e nella bellissima omilia hai evidenziato l'importanza del rispetto delle regole. Ecco allora io ringrazio voi Teleunica per esprimere un accorato appello ai genitori quando i ragazzi, i vostri figli escono dalla porta la sera. Non dite soltanto state attenti ma rispettate le regole. In questo modo si rispetta se stesso e si rispettano gli altri. Ritengo che l'educazione sia l'aspetto fondamentale, propedeutico, affinché si possa circolare serenamente. Con le benemerenze sono stati premiati Pietro Donati, Cristian Cappello, Angelo Iannacone, Daniele Mattocci, Antonino Cannariato, Antonino Peirano, Alessandro Ginnatti, il Comando Provinciale di Sondrio dei Vigili del Fuoco, la Delegazione di Sondrio della Croce Rossa, il Comando Provinciale Guardia di Finanza, il Centro di Soccorso Carrozzeria Soso Ilario di Soso Iuri. Assistente Angelo Iannacone, lei è stato premiato insieme all'agente Daniele Mattocci per aver prestato soccorso a una donna rimasta intrappolata dopo un grave incidente stradale. Cosa passa per la mente in quei momenti? In quei momenti la prima cosa che viene in mente è salvaguardare e salvare la persona all'interno dell'abitacolo. Il nostro lavoro ci permette di salvare le vite umane, salvare soprattutto delle persone che rimangono intrappolate nell'interno degli abitacoli e per questo ci siamo prodigati io insieme al collega a cercare di tirar fuori la signora che era quasi semi-incosciente dal veicolo tenendola sempre in una situazione di sicurezza sia per le lesioni che aveva avuto e sia per il pericolo che stava correndo all'interno dell'abitacolo. Un riconoscimento che premia tutti coloro che ogni giorno operano per la sicurezza delle nostre strade? È un grandissimo riconoscimento per me personalmente che logicamente condivido e condividiamo tutti con i colleghi, polizia stradale, carabinieri, guarda di finanza, diciamo tutti quelli che sono sulla strada e che giornalmente cerchiamo di dare un piccolo contributo alla comunità. Dopo la consegna delle benemerenze si è tenuta la premiazione di coloro che sono titolari di una patente da 60 o 70 anni. Questi i premiati 60 anni di guida Francesco Palmieri, Carlo Scepi, Maria Grazia Grasso, Iole Bertazzini, Aldo Valenti, Rezio Donchi, Marta Maggi, Augusto Giana, Antonio Folini, Renato Sozzani, Roberto Azzalini. 70 anni di guida, Silverio Pasci, Remo Bordoni, Silvestro Faustini, Franco Gugiatti, Guido Fratta. Nella seconda parte abbiamo premiato i veterani, coloro i quali hanno la patente da oltre 60 anni, mettendo in risalto anche 5 di loro che hanno la patente da più di 70 anni. Tanti di loro non hanno mai preso una multa e questo è un segnale importante sulla sicurezza stradale e di insegnamento per i giovani. Silverio Basci, lei è stato premiato perché da oltre 70 anni ha la patente. Come si fa a guidare così tanto senza mai avere un incidente? Un po' di fortuna immagino, un po' stare molto attenti come ho cercato di fare io. Un consiglio che dà ai giovani neopatentati? Stare soprattutto attenti e guardare bene in giro, non telefonare soprattutto, che è un uso abbastanza comune in questo periodo di giovinetti, non voltarsi di qui o di là o parlare più del necessario, soprattutto prudenza ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.